A questa parte, presto! Muoverci! A questa parte! Ma cosa sta succedendo? Si c'è solo del cuore a servizio di tutto l'organismo di quanto è necessario. In questo caso, accedere il suo ritmo per mandare gli forzi ai riformamenti. Non trovate anche voi che tutto questo sia un teraviglioso meccanismo? Ma perché non potremmo fare il nostro lavoro senza il cuore? Perché solamente lui ha la forza necessaria per mandarci dove dobbiamo andare. Senza di lui la circolazione si fermerebbe. Che tutto morirebbe per mancanza di errorazione, capite? Niente da fare, è inutile. Io non ci capisco niente. Ti prego, Emono, ricominciare! C'è solo di spiegare l'ottura. Durante uno sforzo fisico, le cellule consumano più nutrimento e più ossigeno. Quindi il cuore batte più alta e anche la respirazione ha un ritmo più cellulare. Mentre avviare tutto questo, la caccia ad eventuali intrusi continua. E quindi, un macronfamo fa il suo domenico. In questo punto finisce dal corso dell'amico raggi e porazione. Molto presto saremo di nuovo all'interno del cuore. Nel lato sinistro, lo stiamo sempre per la staglia. Non vado a scusare questa intrusione, caro amico, ma se non sto prendendo una paglia, credo che laggiù ci sia un cliente per me. Dobbiamo proprio ringraziare il nostro servizio di difesa. Infatti, è grazie a loro, se Dinos e Mandeli vengono fermati prima che possano causare una malattia. A questo punto dovremmo fare il grande salto, ragazzi. A questo punto dovremmo fare il grande salto, ragazzi. Ma tutto bene? Emo, non si è finito! Emo, non si è finito! Emo, non si è finito! Santo cielo, non ho mai avuto tanta paura in pittà! È stato un risceto da spazio, non si è finito! Noi vediamo la pitta al polmone destro. Ecco i nostri colleghi che arrivano dall'alto, nel polmone del sinistro. Adesso preparatemi ad eventuali discesi. La valvola che spara l'atrio sinistro dal ventricolo sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. La valvola che spara l'atrio sinistro si chiama mitraana. Siamo fatti così. Dentro abbiamo il cuore solido motore siamo fatti così. Spuri scatati sempre scatati sempre scatati siamo proprio fatti così. Questo nostro corpo è meglio il computer vedrà. Siamo fatti così. 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 Siamo fatti così.